Ci sono i primi sospetti per l'incendio scoppiato il 16 luglio all'aeroporto di Catania. Il procuratore di Catania ha notificato negli ultimi giorni. Ma la notizia è stata appresa solo oggi. Le garanzie si avvicinano ad almeno 7 persone. Compresi i leader dei scale management company. La SAC è un atto di due anni. Come conoscono le fonti del Palazzo della Giustizia Etnean. Per consentire di compiere atti non ripetibili alla presenza di avvocati. Tra i sospetti anche il CEO. Nico Torrisi. Ho piena fiducia nella magistratura. Dice a Ancronos Torrisi. L'avviso di garanzia per l'incendio dell'aeroporto di Catania è solo un atto a causa della nostra. Garanzia. Perché indagini non ripetibili hanno indagini non ripetibili sono stati realizzati. All'inizio di altre 6 persone sono indagati con Torrisi. Tra cui il direttore della sicurezza Giancarlo Guerrera. Spero che venga chiarito il più presto possibile in questa storia. Conclude Torrisi.